Per mettere in atto un po' questi lavoretti che faccio a tempo perso, perdendo il lavoro sono organizzata così. Un'occasione per guadagnare? Per rimediare almeno una giornata, si diverte anche, si sta un po' in compagnia fra la gente, fra gli amici e poi in contributo se rimane qualcosa in più si dà beneficenza. Non può essere solo la crisi economica che pur morde anche ad Arezzo a muovere centinaia di aretini e non solo a partecipare al grande mercatino delle pulci. Partito con 18 banchi a Campo di Marte quasi per scherzo arrivano a 600, limite che si è data all'organizzazione perché le iscrizioni sarebbero lievitate oltre le mille. Stiamo cercando di dare la precedenza appunto agli aretini perché stanno arrivando moltissime iscrizioni da fuori Arezzo. La cosa più banale a cui magari non eravamo arrivati era il motivo principale per cui la gente continua a venire qui. Si diverte sostanzialmente, sta bene, fa amicizie perché sono soprattutto cresciuti e nati qui dentro moltissimi rapporti di collaborazione, progetti, eventi di cui siamo felicissimi fra l'altro. Ma avevamo tantissima roba nell'armadio e quindi abbiamo deciso appunto di svuotare tutto quanto per magari anche rinnovare. La curiosità oppure il cianciare, anche il mercanteggiare perché oggi si è perso, cioè con internet non parli più con la persona e a me piace invece almeno anche dare il buongiorno. Ci ha coinvolto lei, ci ha tirato dentro, come pensavamo a questa cosa come un progetto futuro, è diventato immediato. La condivisione di una giornata bella insieme, no? Soprattutto per questo, per passare una giornata insieme, compagnia. Non c'è una stima precisa del volume d'affari ma i visitatori si aggirano intorno ai 10.000. Avendo tre figli può essere una cosa interessante sia per giochi che per abbigliamento. Magari prendere delle cose vecchie, riusarle, insomma anche per un fatto ecologico. Nuova vita agli oggetti che magari sarebbero stati buttati. E dopo il duro attacco da parte delle associazioni di categoria, non tanto diretto al mercatino quanto al fatto che fosse ospitato all'Arezzo Fiere e congressi, è partita una raccolta firme per salvare l'evento. Si chiama Arezzo Fiere perché è fatta, come sottolineano loro, anche con i contributi pubblici e questo è un grande evento rivolto a tutti i cittadini di Arezzo, che sono i protagonisti e che sono anche in gran parte commercianti perché un commerciante poi alla fine prende e viene a svuotare la sua soffitta perché ce l'hanno tutti le soffitte, quindi è l'evento più democratico del mondo.